Forse il posto di oggi è il miglior posto in assoluto dove abbiamo fatto il nascondino Allora, è una falignomeria gigantesca in mezzo ai boschi, in mezzo alle montagne Solo passandoci vicino vedi non so quanti i nascondigli Sei pronta? Assolutamente sì! Dove stai andando? Non lo so dove sta andando È totalmente improvvisato Aiuto! Guarda dove se ne sta andando Parkour! Il disgraziato! Vieni qua a farti uscire Parkour tra i tetti! Vieni qua a farti uscire Parkour! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef E che stai dicendo a GTA V E siamo tornati con un nuovissimo episodio del nascondino Questa volta saremo in un posto molto molto particolare Ovvero una falignomeria che è già in mezzo al nulla E in più ci dobbiamo nascondere al suo interno È stranissimo Non è per niente strano Sembra una figata Mi sono illuminato un giorno tornando dalla nostra casetina Che sta qua vicino Perché non so se lo sapete Ma è molto vicino alla nostra bellissima cittadina Quindi ero in macchina Ho visto quel cazzo dal finestre E ho fatto Ma questo posto è bellissimo Ed eccoci qua Ok? Ok Perché voglio spiegare come mi vengono le idee Ovvero a caso camminando Io sinceramente Non sapevo della sua esistenza Ok Non l'avevo mai vista Guarda che ci abbiamo fatto insieme una missione di GTA Cinque tempo fa Ma tu sei smemorata E ti dimentichi sempre tutto Non è vero Io questo posto non l'ho mai visto Mi sta imbrogliando Abbiamo fatto una missione insieme qua dentro Te lo dico Non è vero Non si ricorda mai nulla Allora io non ci sono mai neanche entrata Hanno un'idea di come sia il suo interno Quindi boh Sì 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 Non so neanche dove devo andare per nascondermi Comunque oggi è un nascondino classico Non ci sono labirinti Non ci sono cose Dove bisogna inseguirsi duemila ore In modi strani Quindi ci si nasconde Torniamo finalmente in un nascondino Abbastanza classico Come si deve Come si deve Esatto Un po' gigante Ma classico Allora chi parte a nascondersi? Vai tu Vai tu Allora dove mi nasco Mi nasco Mi giro qui dietro Qua nell'albero Nell'albero come quando si giocava a nascondino No perché se mi metto nell'albero ti vedo Allora E ti inizio a dire Escrivi un po' il posto Così so poi dove nascondermi io Tantissima legna Ok Un cappannone alla destra Ok L'edificio alla sinistra con scale, tubi e cose varie Si può stare addirittura sotto l'edificio pure Uh interessante Trascendere dove si può salire Lavori, sabbia, entrate Vabbè infinite No no Secondo me Qua invece che 5 minuti ci dobbiamo dare 45 minuti per trovarci Perché è totalmente una follia assurda Allora Mi sto infilando in posti strani Non è molto rincuorante questo che mi stai dicendo Quindi vuol dire che non ci troveremo mai nella vita Può essere Può essere Può essere Secondo me oggi si vince a trovarsi Hai finito oltretutto No Quanto sistema è te Non riesco a decidervi Forse ho trovato un posto che mi piace Un attimino che lo testo Se mi piace ti do il via per andare Finalmente Alleluia Ok No però Qua Sì vai ci sono Spero che tu non abbia visto il mio schermo No no Ok Nel mentre vorrei mettere il timer ma non trovo l'orologio nel mio telefono Eccolo 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 Sì ma c'è solo già un capannone Avviato Strapieno di cose di legno Che già qui c'è ci passi 10 minuti Te l'ho detto È quello che dicevo io Salve avete visto Steph Ho incontrato due tipi Non l'ha vista nessuno Steph Siete sicuri? È come un fantasma No hanno detto che non ti hanno vista Eh vedi 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 vai 5 minutini cara Vada pure vada pure Si diverta C'è solo sotto Ti consiglio di sfruttare questi 5 minuti più per trovare il tuo nascondiglio Così ti assicuri quanto meno il pareggio se non mi trovi Sta anche tramontando il sole cara Così non ti vedrò Nascondino notturno Neanche se ti passo vicino Che figata Metà del tempo è passata No io non sono neanche sicura di aver visitato tutto Cioè no Non è possibile Non è possibile Cioè sto continuamente facendo avanti e indietro tra alcuni culi strani Non capisco più dove sono Gli do una mano ok Ok In questi 3 minuti e 30 Ti ho appena visto Ti ho appena visto lì sopra nascosto Era Guarda uno dei posti che stavo per andare a controllare Lo sapevo che eri là Lo sapevo Vieni qua Vieni qua Ma ti devo ammazzare e ammazzate Come funziona Ammazzare e ammazzate Sì 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 cara Certo Dove sei? Dove stai andando? Non lo so dove sto andando È totalmente improvvisato Aiuto Guarda dove se ne sta andando Parkour Il disgraziato Vieni qua a farti uscire Parkour tra i tetti Vieni qua a farti uscire Dove sei finita? Non te lo dico Dove sei finita? Non te lo dico cara Dai però mi avevi detto Che vinceva chi trova l'altro Io non ero pronta A prenderti e ammazzate Quindi vieni a farti a dare Un'ammazzata per parkour E poi continuiamo No sono cascata di sotto Ma proprio malissimo Penso di morirci Sono cascata In una maniera terribile Facciamo così oggi? Dimmi Ho un'idea Ti vengono le idee al momento Ho un'idea Sì Vedere l'altro vale mezzo punto Ammazzarlo vale un punto Ok Così è comunque qualcosa Ok Almeno ho mezzo punto di conservazione Esatto Dai no però devi Devi uscire fuori Però è ancora 40 secondi eh Ti devo dare l'ammazzata allo stesso In qualche tetto vero? Certo Sto facendo la sassi inscritta al momento Lo so Che devo salire Comunque Per essere un posto al buio Rimane parecchio illuminato Secondo me Abbastanza ma non troppo Secondo me Il posto definitivo Dove fare nascondino È bello eh Davvero bello Davvero gigante Mi sono totalmente innamorato E non ti vedo 5 minuti È finito cara Mi spiace Quindi se ti vedo Mezzo punto Se ti ammazzo Un punto È stranissimo Lo so lo so Però ci sta no? Sì sì Un po' diverso Un po' diverso Ho fatto Ok Allora È un scondiglio strano Non so se è bello Perfetto Forse è più brutto che bello E forse funziona solo se c'è notte E sta diventando giorno No non sta diventando giorno Non è vero Non lo so Io vedo una luce C'è della luce C'è una luce strana in questo posto Però ti garantisco È quasi l'alba secondo me Che è appena iniziata la notte Quindi è tutta la notte Per stare nascosta al buio Quindi puoi stare tranquilla Allora Sono in mezzo agli scatoloni Ok No dai in questa zona Non sei Non sei Non sei Ci hai messo parecchio E secondo me stavi scalando dei posti Quindi hai giocato anche tu sui tubi No non sono andata nei tetti Non ci crederò mai Non sono andata nei tetti Perché noi diciamo sempre Ah non si va nei tetti Quindi non sono andata nei tetti Ah quindi non possiamo andare nei tetti Non lo so Dove sto finendo Adesso finisco Non posso che mi taglia in due Perché serve a tagliare la legna Ho sentito Ferinichi muoversi No Sì sì ti sei mossa No non mi sono mossa Come se ti fossi spaventata Perché ti sono passata a fianco No te lo stai inventando No no ti sei mossa L'ho sentita la tua tastiera È perché sto girando la visuale Per vedere se stai arrivando Mica perché mi sono mossa E quindi sono vicino Non lo so Non ti vedo al momento Quindi non lo so Bella Però sto controllando se ci sei Bella di papà Dove sei? Sono lì dietro Guarda non mi vedi Sei molto simpi Ucci ucci Sento odore di Ferinucci Cos'era? No sei qua Sei qua sei qua Ti ho già trovata Non mi guarda Puoi iniziare ad uscire fuori Quanto tempo manca? Perché ti ho trovata Allora ho ancora un minuto e quaranta Che è tanto Che è tanto Quindi hai ancora Però sto rischiando di lasciarti sto mezzo punto eh Perché per ora manco per sbaglio ti ho vista Esci fuori Mai Stai da brava Mai Allora Allora Concentrato Ho ancora circa un minuto Ho 15 secondi Veloce Secondo me in questa zona Veloce No non c'è Non ci credo Non ci credo Mezzo punto me lo son preso eh Perché Però non mi avevi vista Perché sono scappata Scappata Hai deciso tu di scappare Prima che finisse il tempo Ero lì sotto È finito Sì Ti faccio vedere dov'ero Vieni Dai Ok Ormai non mi puoi Eh più prendere ammazzate Andiamo Ero esattamente qui sotto Se tu ti accovacci No era tipo accovacciato Secondo me Non me lo fa più accidenti Mi hai regalato Ok Ecco così Secondo me mi hai regalato Mezzo punto No mi avresti visto Ti ho visto arrivare proprio qua E nel momento in cui eri tu qua davanti Praticamente ti saresti girato E mi avresti visto Io sono scappata da qui Capito E dai Mi avresti visto Forse sì Forse sì Avevo davvero poco tempo Quindi mezzo punto pari Visti ma non uccisi Esatto Interessante Interessante Comunque già che in 5 minuti Riusciamo almeno a vederci Vuol dire che non è così assurdo Allora vado in un posto Dove non mi può vedere E mi rinascondo Secondo round Prima parte E c'è ancora notte Quindi è ancora difficilissima E siamo 0.5 a testa Che brutti Punteggi così Eh lo so Però non sapevo come fare Adesso ci rivediamo entrambi Almeno arriviamo a un punto a testa Ma stavolta Non mi voglio sbilanciare Ma secondo me non mi trovi Passati 3 minuti 10 No di notte è impossibile E penso che questa volta Basta non voglio più giocare Farò fare 0 a Feri e Niki Nel secondo round Mi sto annoiando Non voglio più giocare Allora io ne metto Continua a cercare Continua a cercare Io ne metto Parlo con i consolini Mi stai ignorando Esatto Esatto Tu cerca Io parlo con i consolini Tanto sono al sicuro Vi volevamo fare un sondaggio Per chiedervi Se preferite appunto Le live O i doppi video Il martedì e il giovedì Perché sinceramente Ad alcuni le live Piacciano tanto Ad altri non piacciono tanto A noi personalmente Non fanno impazzire Non tanto perché Non ci piace Chiacchierare con voi E stare in compagnia Insieme a voi Ma perché non sappiamo mai Che giochi fare Che cosa portare E a livello di contenuti La live stessa Secondo me È un po' più Diciamo Debole rispetto a un video Quindi sondaggino E ci fate sapere Se preferite Martedì e giovedì Con doppi video O con le live In ogni caso Stavamo pensando Che se preferite I doppi video Una settimana sì E una settimana no Facciamo una live O martedì o giovedì Così le live rimangono Ogni tanto Chiacchieriamo con voi Magari rispondiamo Anche di più alle domande Però Tendiamo a fare Più i doppi video Quindi fateci sapere Fereniki Stava accendo anche giorno Stava accendo giorno Che ora è? Fammi vedere No ma ho già finito il tempo Sono da due ore Che sto vero L'ho finito Hai 30 secondi Ma che cosa mi servono 25 secondi Mi servono a niente 25 secondi No è impossibile Basta Mi sto arrabbiando Non mi piace più il nascondino Te lo dico Non mi piace più No dai No non mi piace più Fai da brava Non mi piace più Hai ancora 15 secondi Ti ho visto Ma sei di nuovo qui dentro Sei un disgraziato Ma dove sei? Qui dietro Ti ho visto da lì dietro Dove? Guardati Affacciati sotto Sono scesa sotto davanti a te Non mi hai visto Non ti vedo io Vieni qui sotto Stai imbrogliando Ti ho visto Ero lì dietro nel tetto Quindi ti ho visto Fatto Ok È più difficile col giorno Avviato Tanti posti che prima Sembravano belli Ora sono molto scoperti Quindi è un po' strano Allora In alto non vale Giusto? No Abbiamo detto sui tetti no Ok ok Anche se per un momento Lo sai che ho pensato Di barare Andarmi in altissimo Perché ho visto Che c'è praticamente Una specie di ciminiera Altissima Ho visto che c'è la scala Quindi ci puoi totalmente salire Lo so Ho fatto mio dio Mamma ne vado lì sopra Non mi troverà mai Però ho detto dai no Magari me lo ferro In qualche altro episodio Senza puzza di Ferinichi In questo momento Ferinichi ha un punto intero Io ho mezzo punto Quindi posso o pareggiare O andare in vantaggio A questo secondo round Dopo che ci sarà Il round finale Con doppi punti Esatto 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 Se tu vedi vale un punto Se tu amazzi vale due punti Così tutto si può ribaltare Vieni qua Vieni qua Che voglio andare in vantaggio Al buio non mi avresti mai visto Al buio non mi avresti mai visto Disgraziato 50 secondi Questa è la vecchia Ferinichi Quella che tutti conosciamo Adesso stiamo fermi Finché non fa notte È certo Stiamo fermi Finché non fa notte E poi tocca a me Quindi va bene Grazie Accetto volentieri Allora Sei già in un posto Dove non mi vedi? Eh dai sì Mi metto qui sotto Non dovrei vedere nulla Sto vedendo il cielo In questo momento A meno che non voli in cielo Non ti vedo In intanto però Mi fa pena Quando fai questi Nascondigli così brutti Era bellissimo Era geniale Ma come fa Non posso pensare che fosse buono Allora Chi è che passa lì sotto? Io non sono mai andata A controllare lì sotto Chi è che ci passa? Io Solo tu perché sei uno stupido Ecco perché Ma sei tu una stupida No sei tu uno stupido Infatti sono campione mondiale Di nascondiglio Allora Nessuno Nessuno sarebbe passato lì sotto Io non ci sono mai passata Era la prima volta Che vedevo quel posto Ok Quindi ho detto scusa Se è la prima volta Che vedo quel posto Nessuno ci passa Vada 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 Comunque Sì Uno e mezzo per Steph Quindi un punto e mezzo per Steph E uno per Ferinichi Ma adesso vale doppio Quindi se solo mi vede Fa due punti Come li farò io Nel caso in cui la vedrò Se mi ammazza No fa un punto Se mi ammazza ne fa due Non si è capito nulla Non si è capito niente Cioè perché parli ogni tanto Cioè non si capisce nulla Quando parli Secondo me Ho il migliore nascondiglio Della giornata Non ne sono sicura Vediamo Vediamo Per il round 3 Secondo me Ho riservato proprio L'ho trovato all'improvviso Non era studiato da prima Però Secondo me È spettacolare Al buio Proprio al 100% Non mi avresti mai visto Di giorno È più rischioso Due minuti e dieci Sono passati A Ferinichi Manca poco Sta rischiando la sconfitta Devi morire L'ennesima sconfitta Ti devo distruggere No si Il problema È che ho rovinato il mio nascondiglio Sbuca di più di prima Perché stavo Ma come? Mi stavo muovendo ballando Ma tanto non ti ho visto Non è che cambi molto Si ma Non è più un nascondiglio Se non riesco Non riesco a rimettermi Nello stesso punto Ok ce l'ho fatta 40 secondi 40 secondi Cioè sto arrivando a controllare Anche dentro i cespugli Corri come una pazza Corri come una pazza Davvero Cioè non so più dove sei L'unico indizio Che ti posso dare A 30 secondi A fine è che sono Più o meno Al centro della mappa Quindi Nella zona Proprio super centrale Della falegnomeria Non sono agli esterni Capito Sono nella zona Centrale del tutto Allora Non mi serve a niente Grazie 15 secondi Non mi serve a niente Ormai 13 12 12 11 10 secondi Arresa Perché 50 secondi Non bastava Ancora Secondo me fai Tipo 3 secondi A suo modo Secondo me ha senso Voglio fare il record Di velocità Nel trovare Ferinichi Più o meno Perché non lo so Non ti so dire Concentrato Steph La devi trovare Non puoi lasciarle Questo round finale In modo epico Non puoi Allora Può essere ovunque Poi Questo posto L'avevo controllato Anche prima Perché è buono Questo guarda che è buono Io non so perché Non ci siamo mai nascosti Lì dentro Perché ogni volta Che c'è un nascondiglio Nascondiglio buono Tu non lo usi Scusi signore Così è un insulto Un insulto alla mia persona Io sono bravissima Nascondimi Ho una complicanza ulteriore Cosa sta succedendo C'è un tizio che mi insegue Ma perché ti sei fatto insedire È perché l'ho steso Mentre ci cercavo Hai un minuto e trenta Stai andando bene Stavolta Andando bene Perché c'è un tizio che corre Perché gli hai fatti spaventare No mi stanno sparando Perché La polizia credo Ma sempre a te arrivano Chiamati Lester Chiamati Lester Ma scusate però Dai Dieci secondi Corri Steph Ti dico una cosa Sì Mi sei passato di fronte Totalmente tre volte Io ho fatto uno sforzo immenso Per cercare di non ridacchiere Non farmi raccorgere E non farmi notare Ogni volta Ma mi sei proprio passato Di fronte Totalmente Tre volte All'inizio della mappa Questo era bellissimo Guarda Se ti fa mettere in cu Eh sì Fantastico Eh va bene Come quello Perché la devo trovare adesso Allora esci fuori Da qui Sì esci fuori Ok Dove sei? Cerco di non vedermi Mi sono alzata Lì Quella cazzo di legno Nel cospuglio Ero lì dietro Qui dietro Così E sei passato davanti tre volte Non mi hai mai visto Non si prova E' finita quindi con Io uno e mezzo E tu uno Sì Perché poi Io non ti ho trovato E tu non mi hai trovato Ok E quindi zero e zero E quindi è finito Col vantaggio che ho fatto Ammazzandoti In cinquenta secondi Al round due No ma dovrei aver vinto io Scusa non mi hai trovato E tu non l'hai trovato a me Nel round tre Round uno Ci siamo visti entrambi In mezzo a punta testa Round due Tu mi hai solo visto E io ti ho ammazzato Quindi io ho un punto Tu mezzo punto Quindi tu sei arrivata a uno E io ho una mezzo Ah vabbè sì sì ho capito Round tre zero zero Però essendo un mezzo punto Ti do il pareggio Vabbè più a me Di mezzo punto Nel caso però dai Fareggio solo perché Questa è una scondigliore È una scondiglia della vita Cioè sei passata davanti tre volte Tu non passi mai davanti Senza vedermi Cioè riesci a vedermi Nei posti più impensabili E qui non mi hai visto Ma te l'ho detto Non sentivo La sensazione che ho di solito Forse il cespuglio Ha nascosto la tua sensazione Capito Ha tappato le mie vibrazioni Non c'è altra spiegazione Non c'è altra spiegazione logica Perché questa Ha tanta logica È arrivata anche la polizia Nel frattempo Stai facendo un disastro Sì perché quando ti faccio esplodere Comunque dai Direi di formarci così Speriamo che vi sia piaciuto Questo episodio Ancora diverso Dalle altre nascondini Perché stavolta Proprio Non c'è stata Una volta Diciamo In cui Non Cioè non ci siamo inseguiti Mai Esatto Mentre comunque anche Nella scondina di Hollywood Ci siamo inseguiti Eh sì perché magari erano un po' più semplici Anche se pure Hollywood Non era troppo Troppo Semplice Però ci trovavamo sempre Esatto esatto Questo non lo so Forse saranno i colori del cantiere Che confondono un po' di più E non vedi le persone È davvero gigantesco No è bellissimo Quindi speriamo che vi sia piaciuto Credo che vi lasciamo sia il sondaggio Quello che vi ho detto Quindi live O video Anche se poi appunto Le live sarebbe una settimana Sì una settimana No Sia il sondaggio Per dirci se vi è piaciuta Molto questa mappa E se magari vorreste vedere Una seconda parte in futuro Perché secondo me Ogni tanto ci sta a riproporli Perché conoscendo già la mappa È tutta un'altra roba Capito? Beh ragazzi Grazie a tutti Se ci piace Se ci piace Se ci piace E se è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.